Pioggia di Fodin arrivo nel Vallo di Diano, tutti destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di edifici pubblici. Con la legge numero 160 del 27 dicembre 2019 sono stati stanziati circa 600 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché per l'efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici. Si tratta di fondi destinati agli enti locali che hanno presentato una proposta progettuale per la realizzazione delle opere. Diversi comuni del Vallo di Diano rientrano tra gli enti beneficiari a seguito pubblicazione della lunga graduatoria da parte del Ministero dell'Interno. Pioggia di fondi e tante opere in realizzazione per mettere in sicurezza il territorio. Tra gli enti partecipanti, oltre a diversi comuni, anche la comunità montana Vallo di Diano con tre progetti, tutti finanziati, per un totale di circa un milione di euro in arrivo per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Sassano e Monte San Giacomo riferiti al primo progetto di 411 mila euro. Un secondo progetto per lo stesso importo su lavori da realizzare nei comuni di San Pietro, Altanagro, Sant'Arsenio, San Rufo e Teggiano ed un ulteriore progetto approvato per l'importo di oltre 232 mila euro per lavori nei territori di Polla e Atena Lucana. Questi stessi comuni beneficiari dei progetti dell'ente montano risultano inoltre beneficiari di ulteriori fondi grazie al finanziamento presentato dagli stessi interventi comunali ed inseriti in graduatoria. A questi inoltre si aggiungono anche i progetti di sala Consilina che è risultato beneficiario di fondi per opere da realizzare sul vallone Valle Mauro e nelle aree attigue e per la messa in sicurezza di via Godelmo nella frazione Trinità ottenendo per tali opere l'importo totale di 94 mila euro. Tra i beneficiari c'è inoltre Sanza che ottiene circa 168 mila euro per lavori di messa in sicurezza del vallone di Alvo e per opere di mitigazione del rischio idrogeologico e trasferimento del depuratore comunale. 82 mila euro in arrivo a Casalbuono, ente che si è visto finanziare i tre progetti presentati nell'ambito della programmazione per la messa in sicurezza del torrente Brignacolo, risanamento costone roccioso sulla strada Acquabianca e lavori presso l'Acquedotto Mangarrone. 220 mila euro invece i fondi in arrivo a Padula che saranno utilizzati per la sistemazione idrogeologica del versante a valle del liceo scientifico Pisacane al fine di realizzare un'area di attese e percorso di emergenza in presenza di rischio sismico elevato. A tal proposito si registra la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Padula manifestata dal sindaco imparato e dall'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Polito. Siamo molto soddisfatti per il finanziamento ricevuto a favore del comune di Padula, hanno richiarato. Gli interventi progettati saranno in funzione di una migliore accessibilità di via chiusa con relativa sosta dei pullman. L'attenzione al territorio è sempre massima, soprattutto in presenza di criticità che cerchiamo di contenere e risolvere lavorando continuamente con impegno.